Lascia like a questo video se ami tua mamma, se non lascia like a questo video non l'ami, quindi lascia like a questo video Veloce lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella Se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di GTA 5 Line E commenta più volte nei commenti con il tuo ID e con la tua piattaforma Così ti potrò dare la tua ricompensa E inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie money lobby su PS4, Xbox One e PC Quindi commentate nei commenti con i vostri ID Prima di partire col video volevo parlarvi velocemente di questa pagina con cui sto collaborando Chiamata EasyGTA.Shop, una pagina dedicata al 100% del mondo di GTA 5 Line Infatti questa pagina offre come vedete recovery su GTA 5 Line principalmente per PS4 e PC Come vedete ci sono esattamente money boost per PS4 come vedete con il prezzo più basso in Italia Infatti come vedete potete aggiungere esattamente più di 120 milioni a botta E utilizzando il codice coupon Xtianox come vedete sotto prima di acquistare ogni prodotto Avrete esattamente un 5% di sconto all'interno di ogni acquisto Quindi come vedete basta cliccare qui e clicco a coupon Inserire il coupon Xtianox e da lì avrete esattamente lo sconto Successivamente come vedete i metodi di pagamento sono 100% validi Quindi no truffa e comunque questo sito qua è 100% affidabile Ed è veramente veramente velocissimo con le consiglie Poi come vedete abbiamo anche i money boost per le persone da PC Costano veramente veramente pochissimo come vedete i money boost Per il PC anche lì acquistandoli col coupon Xtianox avrete uno sconto del 5% Potete acquistare anche Nord VPN comunque come vedete con nessun tempo limite comunque di diciamo utilizzo E come vedete avete veramente una decisione vasta di mod menu per PC su GTA 5 online Inoltre come vedete potete esattamente aggiungere anche come vedete delle deluxe all'interno comunque del vostro account Come vedete c'è anche in questo momento un 80% di sconto ragazzi Quindi io direi di approfittare ora per acquistare comunque le deluxe Anche qui se inserite attenzione il coupon il codice Xtianox avrete ancora un altro sconto ancora di più Quindi ragazzi approfittate ora link nella descrizione per il nuovo DLC Benvenuti a tutti in questo nuovo video qui Xtianox GTA E oggi siamo ritornati qui con un nuovissimo glitch per diventare milionari all'interno di GTA 5 online In solo per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC funzionante ora in questo momento Però mi raccomando prima di partire se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like a questo video E iscrivetevi al canale con la campanella attiva su tutte Se anche voi volete partecipare a un contest dove potete vincere esattamente un account moddato Per comunque per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC con all'interno soldi, rango, auto moddate E vestiti modati con il nuovo DLC tutto sbloccato Però ragazzi è molto importante anche per partecipare al contest guardare tutto il video fino alla fine Comunque ragazzi io direi di iniziare subito comunque con questo glitch veramente veramente molto molto semplice Infatti ragazzi dovrete recarvi esattamente in questa posizione dove sono io Mi raccomando ragazzi rimanete attivi con la campanella anche e soprattutto perché ogni giorno escono nuovi glitch sul mio canale Quindi rimanete attivi per comunque non perdervi i migliori glitch per diventare milionari all'interno di GTA 5 online E per comunque comprare diciamo tutti i nuovi contenuti del nuovo DLC Quindi è veramente veramente fantastico diciamo ottenere tutto il nuovo DLC gratuitamente Grazie comunque a questi glitch che sono veramente veramente molto molto veloci Ci impiegate poco tempo e riuscirete comunque a ottenere veramente veramente tantissimi soldi Infatti ragazzi come prima cosa dovrete recarvi esattamente in questa posizione qua della mappa come vedete Dove ci sarà questo ATM qua quindi come vedete questo ATM qua all'interno di un muro E ora una volta che sarete qua dovrete esattamente entrare all'interno dell'ATM con la freccetta destro Oppure comunque dipende dalla piattaforma che giocate In questo caso io sto eseguendo questo glitch da PS4 E una volta fatto dovrete depositare all'interno dell'ATM tutti i soldi che avete in contanti Ok quindi come vedete in questa maniera qua Depositiamo tutti i soldi che abbiamo in contanti Perfetto ragazzi Una volta fatto questo passaggio qui come vedete aver depositato tutti i soldi Cosa dovremo fare? Dovremo esattamente ragazzi andare qui nel menu dell'interazione E mettere come rientro ultima posizione Ok quindi ultima posizione come rientro E poi cambiate vestito Oppure comunque cambiate un accessorio Comunque per salvare diciamo il tutto In questo caso cambierò vestito Perfetto Una volta fatto dovrete aprire il telefono Quindi dovrete andare su internet su finanze e servizi Ok ora scendete e andate su Mates Bank Quindi come vedete è l'ultimo risultato di ricerca E dovrete cliccare su menu Ora dovrete andare esattamente su come vedete preleva E dovete prelevare un milione di dollari dal vostro conto Quindi come vedete in questo modo qua come sto facendo io Ok successivamente fatto uscite dall'ATM C'è dal telefono E accedete all'ATM Una volta fatto comunque depositate esattamente il milione Che avete prelevato prima In questo modo qua come ho fatto ora E poi dovrete andare su attività Avvia attività Create da Rockstar Missioni E dovrete avviare la missione Un lavoro da titano Ok quindi come vedete in questo modo qua Avviate questa missione Molto molto importante Perfetto E ora confermate le impostazioni Non cambiate niente O che lasciatela così di default Infatti è la missione più glitchata del gioco ragazzi Per questo che la useremo esattamente per questo glitch Ok Ora una volta che saremo all'interno di questa missione Cosa dovremo fare ragazzi Dovremo esattamente aprire il nostro telefono Andare su internet Su finanze e servizi Andate su Mates Bank Sul menu E dovrete come vedete andare su preleva E prelevare un milione Però ragazzi attenzione Ora dovrete togliere la connessione Prima di prelevare Togliete la connessione Accettate il messaggio che vi apparirà Della disconnessione E rimettete la connessione Ok Ora vi porterà comunque Ovviamente nell'offline di GTA 5 line A me ci ha messo un pochino Quindi ho tagliato Diciamo comunque la parte del caricamento E sono direttamente Comunque ho ripreso la clip dall'offline Quindi dal Diciamo dal Dalla storia Ecco perché ci mettevo un po' a caricare il tutto Una volta che sarete nella storia Andate su option online Gioca GTA online E sessione solo ad inviti Infatti ragazzi il glitch è completato al 100% Veramente molto molto easy e veloce Ora dovremo attendere Vediamo se ha funzionato il glitch Questo nuovo glitch Diciamo veramente fantastico Per diventare milionari All'interno di GTA 5 line Perfetto Tendiamo un attimino il caricamento Intanto che ci porterà all'interno di GTA Ed eccolo qua Congratulazioni Si è stato ricompensato con un milione di dollari E articoli di gioco Quindi come vedete il glitch ha funzionato al 100% Ovviamente ragazzi il glitch Più volte lo fate Più milioni potete ottenere Ok quindi potete continuare all'infinito Vi consiglio di fare con un massimo regà 5-10 milioni Non di più Per non rischiare il ban Comunque per questo video è tutto Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.